In gergo potrebbe essere definito un tavolo tecnico, quello che Luciano D'Alfonso ha fatto questa mattina incontrando i vertici dell'Istituto Zoprofilattico Abruzzo e Molise Caporale di Teramo è stato un vero e proprio incontro cognitivo dove il nuovo presidente della regione ha voluto sapere tutto ma proprio tutto della struttura, del passato, del presente, del futuro e delle varie problematiche. Ma questa è una delle pagine funzionanti dell'Abruzzo che è eredito e se fosse stato possibile sarei venuto anche alle 5 di mattina per onorare la bravura, la competenza e l'eccellenza di questo formidabile giacimento. Io apprezzo coloro i quali dimostrano di sapere fare, di avere in ordine la situazione giuridica, amministrativa, contabile, progettuale e produttiva. Ieri ha dato i nomi, oggi ci dà le deleghe? Tra ieri e oggi sono passate soltanto 24 ore. Ma per lei sono più che sufficienti? No, ho bisogno di concentrarmi anche con i miei collaboratori per cercare di amalgamare nella maniera migliore possibile le deleghe di più assessorati che sono diventati meno assessorati quindi devo apparentare settori e deleghe. Il direttore generale Fernando Arnolfo ha avuto un approccio operativo e più che avanzare richieste ha cercato di spiegare quelli che sono i problemi e la valenza della struttura. Qualunque politico deve sapere, deve sapere cosa fa l'istituto, le peculiarità dell'istituto, le competenze che ci sono qua dentro, quello che si produce di conoscenza all'interno dell'istituto che è enorme. Deve sapere che questo ente è un ente di eccellenza. L'eccellenza è un termine abusato. Noi siamo in grado di supportarlo con dei parametri di riferimento inoppugnabili. Questo è importante perché ormai in Italia è tutto eccellente. Noi abbiamo degli indicatori che dicono che siamo veramente un centro di eccellenza. Se paragoniamo il nostro istituto ai dieci istituti, agli altri nove istituti presenti in Italia, ecco il nostro istituto in una ideale classifica, come si usa a fare al giorno d'oggi, il nostro istituto sicuramente è tra i primi.